Musica Non ci saranno aumenti per i costi dei servizi garantiti fino alla fine dell'anno scolastico, le menze e i trasporti e finalmente sarà possibile programmare nei tempi stabiliti gli attesi interventi di manutenzione del territorio, in particolare per le strade. Sono questi solamente alcuni dei passaggi salienti del bilancio di previsione dei prossimi tre anni, approvato dal commissario straordinario del Comune di Teramo, Luigi Pizzi. La maggior parte delle tariffe è rimasta invariata per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, quindi non ci saranno aumenti, ci sarà un lieve aumento della Tari in relazione all'inversione del peso che ho deliberato dell'imposta tra le famiglie e le attività imprenditoriali e per il resto a gravi dal punto di vista della fiscale, dal punto di vista del peso delle tasse per servizi non ce ne saranno. Ci sarà qualche contenimento della spesa su alcuni aspetti specifici, quali l'assistenza scolastica, ma lì ho inteso riallineare o riavvicinare il Comune di Teramo alla maggior parte dei comuni, quindi alla media degli altri comuni. Invece per quanto riguarda la scuola? Beh, per quanto riguarda la scuola, come dicevo prima, nulla cambia, né per il trasporto scolastico né per quanto riguarda le menze, quindi su questo fronte le famiglie possono stare tranquille, insomma. L'unica riduzione che al fine del contenimento della spesa sarà questo dell'assistenza, ma insomma poi il tutto decorrerà dal prossimo anno scolastico, quindi fino a giugno rimarranno i livelli attuali. Mentre per quanto riguarda la costruzione della scuola totalmente antisismica, mancano ancora dei fondi? Sì, adesso il discorso delle scuole, della costruzione, dell'adeguamento, della smisticità, il discorso è piuttosto lungo. Si sta cercando di fare il meglio possibile, ci sono dei fondi per adeguare un paio di istituti scolastici, insomma, questo fronte si sta lavorando, ma non è tanto il bilancio che incide su questi aspetti quando altre iniziative che vengono prese dall'amministrazione, tenuto conto però che la gestione commissariale oramai ha una prospettiva temporale molto limitata, perché tutti sapete che si andrà al voto il 10 giugno, quindi dovrò tenere conto anche di questo aspetto. Prenderà il via domani a Teramo presso il campus universitario Aurelio Saliceti il primo dei quattro appuntamenti del progetto denominato Scuola di Legalità, curato dalla Facoltà di Scienze Politiche in sinergia con l'Associazione Falcone Borsellino, rivolto ai laureandi ma anche agli studenti delle scuole superiori del territorio, incontri e dibattiti alla presenza di personalità di spicco per riflettere sul senso della parola legalità. Riteniamo che la legalità debba essere anche un elemento della formazione dei ragazzi. Questa esperienza che nasce da una collaborazione con l'Associazione Falcone Borsellino e con il Consiglio regionale abruzzese parte quest'anno, possiamo dire quindi che è un anno di prova, e si articolerà su quattro giornate. Le prime tre saranno organizzate dalle Facoltà di Giurisprudenza, Scienze Politiche e Scienze della Comunicazione del nostro Ateneo, mentre la terza giornata sarà una giornata di testimonianze e cadrà il 23 maggio, quindi il giorno della commemorazione di Capaci. Ma proprio lo spirito è quello di formare i ragazzi, quali i nostri, ovviamente i nostri studenti, ma anche e soprattutto gli studenti delle scuole superiori di Teramo. Loro parteciperanno alle quattro giornate, avranno il riconoscimento di due CFU che potranno utilizzare nel caso di iscrizione i nostri corsi di laurea, quindi un vero e proprio percorso formativo. Presente in conferenza anche il Rettore Luciano D'Amico, il quale non si è tirato indietro nel rispondere alle domande di una sua possibile candidatura alla carica di primo cittadino. La mia risposta è di grande gratitudine, ma di indisponibilità. Di indisponibilità che ho ribadito nel corso, diciamo, degli ultimi quattro anni. Mi dispiace che dall'inizio del mandato ogni progetto presentato come Rettore, come Università, a volte veniva letto come finalizzato a V di carriere politiche. Come dicevo allora, quattro anni fa, cinque anni fa, come ho detto fino all'altro ieri, e quindi confermo oggi, nessuna strumentalizzazione. Tutti i progetti realizzati con l'Università avevano come unico obiettivo quello di dotare l'Ateneo delle strutture adeguate e di fare in questo modo il bene della città. Io sono convinto che si possa servire a una città, quella di Teramo, che amo profondamente, e a cui sono debitore di un'accoglienza straordinaria e di tanti altri progetti condivisi. Sono convinto che si possa lavorare per il bene di questa città, anche al momento ancora da Rettore. Oggi firmerò il bando per il manicomio e poi da cittadino. Da cittadino penso che si possa lavorare in termini di progettualità. Per il momento, quindi, nell'interesse esclusivo dell'Università e quindi della città, fino al 31 ottobre cercherò di completare i progetti. La settimana scorsa abbiamo aggiudicato la progettazione per il Polo Agri Bioserva. Oggi firmerò il bando per il manicomio e sono fiducioso che nelle prossime settimane ci possa essere anche il finanziamento pieno per la Casa dello Studente in Viale Gruccioli. Già realizzare questi progetti significa in qualche modo volere del bene alla città, verso cui, ripeto, sono davvero grato e riconoscente per tutto quello che ha fatto, nell'accogliermi personalmente, ma per tutto quello che ha fatto per consentire a questa Università di poter essere oggi una Università, in qualche modo, leader nei settori di cui è presente e poter essere un soggetto attivo nella ricostruzione di una città che con il terremoto, con tutte le sciagure che ha avuto, merita tutte le attenzioni. Ecco, da parte mia ci sarà la disponibilità massima, ma non alla candidatura. Una disponibilità massima che continuerò a sfruttare, diciamo, a mettere a frutto come rettore fino al 31 ottobre, come cittadino poi, perché nei confronti di questa città posso solo esprimere una gratitudine profondissima e una dedizione assoluta nei modi in cui dicevo. A Teramo, il commissario straordinario Luigi Pizzi sta lavorando ad un progetto per implementare il numero di telecamere per la videosorveglianza. Saranno in totale 40 gli occhi elettronici che vigileranno sulla città, che verranno dislocati nei punti attualmente scoperti, decisi in sinergia del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Un nuovo sistema di controllo e sorveglianza anche per prevenire gli atti vandalici e fermare l'attività dei tanti furbetti della raccolta differenziata che ancora si divertono a lasciare in giro sacchi dell'immondizia e a creare discariche a cielo aperto. L'intervento voluto dal commissario prenderà il via partendo dalla sistemazione delle telecamere già presenti sul territorio comunale, visto che al momento 4 su 19 risultano non funzionanti, per poi introdurre telecamere di nuova generazione che sfruttano la tecnologia OCR, un acronimo inglese utilizzato per il riconoscimento ottico dei caratteri. Questi nuovi occhi elettronici saranno in grado di leggere le targhe dei veicoli in transito in qualsiasi condizione climatica e di illuminazione, telecamere che saranno collegate a un server per la registrazione delle immagini e per l'interazione con il Ministero dei Trasporti, per la verifica della copertura assicurativa, il controllo della revisione e la verifica dei veicoli rubati o segnalati. E inoltre sarà possibile verificare in tempo reale che l'automobilista abbia tutti gli adempimenti in regola. Il sindaco di Giulianova, Francesco Mastro Mauro, torna a denunciare il rischio concreto che il consultorio del Comune Costiero possa trasformarsi in una struttura fantasma a causa della mancanza di personale. Questo a seguito di alcuni pensionamenti avvenuti negli ultimi mesi, l'ultimo dei quali è avvenuto in questi giorni riguardante un assistente sociale. Una situazione che, se non risolta a stretto giro, porterebbe alla paralisi dell'importante servizio alla collettività. Il servizio che presta il consultorio di Giulianova a tutto il distretto che fa riferimento al servizio stesso è fondamentale. In questi mesi io ho più volte lanciato l'allarme perché il personale medico e paramedico che sempre più va in quiescenza, quindi va in pensione, non viene sostituito. Da ultimo, proprio in questi giorni, l'ennesimo assistente sociale gode della meritata pensione, ma non viene sostituito. Io proprio ieri ho parlato con l'avvocato Roberto Fagnano, il manager dell'ASL, chiedendogli un intervento. Un intervento che eviti la paralisi delle attività del consultorio e restituisca al consultorio stesso la funzione sociale fondamentale, quella di essere un punto di riferimento costante per le donne, per le famiglie e per tutti coloro che hanno bisogno di un ascolto e un intervento medico. So che ci sono difficoltà, ma l'ASL deve intervenire. Quindi io attraverso queste emittenti dico che l'ASL non può fare finta di niente. L'avvocato Fagnano è stato raggiunto da un mio accorato appello ad intervenire, così come ho fatto in questi mesi. Mi aspetto risposte immediate. A Tortoreto, nella frazione di Cavatassi, il terreno sottostante è già interessato da oltre un anno da un movimento frannoso continuo a muoversi. Per questo motivo il sindaco Domenico Piccione, a seguito anche di un sopralluogo dell'ufficio tecnico, ha firmato un'ordinanza che impedisce l'accesso e dunque l'utilizzo dello spazio pubblico dello spiazzale costruito in cemento armato e dei locali sottostanti. A seguito di una segnalazione da parte dei cittadini, ci sono stati dei sopralluoghi, i sopralluoghi il 15 e il 21 di marzo da parte del settore lavori pubblici e i tecnici hanno rimesso al sindaco e alla giunta una relazione nella quale indicavano che era opportuno chiudere una questione di sicurezza per la cittadinanza la piazzetta e quindi ieri abbiamo firmato questa ordinanza di chiusura. Lì purtroppo la frazione è interessata da un movimento franoso da diverso tempo. C'è una casa che è stata dichiarata un po' di tempo fa inagibile. Questa amministrazione che è entrata nel fine giugno 2017 ha già iniziato un'attività con la Regione. Abbiamo avuto un incontro a fine anno scorso, lo avremo di nuovo e intanto all'interno abbiamo una task force del settore lavori pubblici insieme ad alcuni consulenti esterni e ci siamo dati un programma per il monitoraggio della situazione. Grazie anche all'approvazione del bilancio che è avvenuto appunto da poco tempo abbiamo alcune somme proprio per continuare questo monitoraggio e queste indagini e continuare invece un discorso con la Regione per uno studio di fattibilità concreto per arrivare comunque a una soluzione del problema. Il nostro dispiacere soprattutto è sia per i cittadini per quanto riguarda la casa che è stata chiusa e le altre case che sono interessate al movimento franoso e per la piazzetta perché era ovviamente un punto anche di incontro per i cittadini soprattutto l'infrazione e quindi in un posto che è un po' lontano dalla zona centrale del paese. Si fa sempre più difficile la situazione al penitenziario Terramano di Castrogno a causa dell'oramai cronica carenza di personale di sovraffollamento e di agenti costretti giornalmente allo straordinario ultima in ordine di tempo la proposta della direzione dell'istituto carcerario di ridurre le giornate di congedo nel periodo estivo scelta che non è assolutamente piaciuta alle organizzazioni sindacali che hanno deciso di proclamare lo stato di agitazione del personale e l'astenzione della mensa di servizio a partire dalla giornata di lunedì una decisione a cui i sindacati sono giunti a fronte di mancati accordi nel corso delle trattative con l'amministrazione penitenziaria e di una situazione che sarebbe diventata oramai insostenibile SAP, OSAP, WIL, PA, SINAP, CISL e CGL denunciano infatti come nel corso dell'anno il personale con spirito di abnegazione e senso di responsabilità non abbia fruito del congedo per garantire l'ordine e la sicurezza dell'istituto come lo stesso personale per garantire i livelli minimi di sicurezza e venga anche costretto giornalmente ad espletare il lavoro straordinario arrivando a circa 41.000 ore l'anno una situazione dunque molto delicata a cui si va ad aggiungere anche il fatto che non sempre al personale venga garantito il riposo settimanale e come a fronte di un organico previsto di 216 unità ne siano in servizio ad oggi appena 148 questo a seguito del distaccamento senza alcun reintegro di diverse unità in altri penitenziari o strutture periferiche sembrava una questione oramai chiusa ed invece non lo è stiamo parlando della bonifica della discarica di Grasciano nel comune di Notaresco questo perché il consorzio stabile ambiente dell'Aquila che è in custodia gli impianti di Grasciano del CIRSU ha presentato un ricorso al tribunale amministrativo regionale contro l'ordinanza della regione che obbligava il consorzio stesso in collaborazione con la Deco SPA di occuparsi dello svuotamento dei capannoni che ad oggi contengono ancora circa 12.000 tonnellate di rifiuti organici una situazione che ha colto tutti di sorpresa in primis il sindaco Diego Di Bonaventura ero certo che le cose non erano così semplici però il ricorso che è arrivato di CSA impugnando l'ordinanza crea qualche disagio io credo che bisogna andare avanti perché adesso io dico che siamo a buon punto perché c'è un documento ufficiale che c'è un'ordinanza di rimozione dei rifiuti che non è stata fatta da Pingo Pallo ma dalla regione Abruzzo e credo che la regione Abruzzo si sia già adoperando perché affinché appena scaduti i termini dell'ordinanza si adoperi a rimuovere tutti i rifiuti è vero che ho un po' di scoramento anche dalla parte della popolazione perché giustamente hanno impugnato l'ordinanza credo per prendere tempo ma io credo che tempo non ne abbiamo più perché stia arrivando la prossima stagione estiva ecco la regione dovrà subito provvedere alla rimozione dicevo a buon punto perché c'è un'ordinanza da quell'ordinanza non possiamo più uscire c'è un perimetro di date e da quelle date ci sono delle scadenze che scaturiscono un cronoprogramma e da lì non si possiamo muovere ecco l'11 aprile saremo di nuovo con il prefetto che sta facendo proprio da da contorno su questa vicenda coinvolgendo tutte le parti affinché otteniamo il risultato sperato ecco perciò dico che non dobbiamo scoraggiarci dobbiamo andare avanti come abbiamo finora e sono convinto che per l'estate quei rifiuti non saranno più parcheggiati in questa provincia grazie